Grazie Presidente, ci impiegherò molto meno tempo perché le cose sono già state dette. La delibera è una delibera molto semplice che abbiamo esaminato in Commissione Urbanistica. Si tratta praticamente della necessità di fare una variante urbanistica per spostare questa cabina elettrica della CEA che serve più o meno 700 utenze e che va spostata dall'interno dell'edificio dell'ex poste attualmente di proprietà di cassa depositi e prestiti, va spostata all'interno dell'area di Piazza Dante dove c'è questo giardino. La cabina elettrica deve necessariamente essere spostata per motivi di sicurezza perché nel palazzo ci saranno delle destinazioni che non consentono a questa struttura di rimanere all'interno e per la sua realizzazione nella piazza sono state date delle prescrizioni dalla sovrintendenza capitolina per come la cabina stessa dovrà essere realizzata. Quindi sarà un manufatto abbastanza piccolo come superficie di 4 metri per 4, in parte interrato e verrà ricoperto di laterizi e di travertino. Quello che dicevano i colleghi che mi hanno preceduta è vero, nel senso che anche noi in Commissione Urbanistica abbiamo rimarcato oltre alla necessità di mandare avanti questo provvedimento per spostare la cabina di comunque stimolare i lavori per un completo ripristino della piazza e dei giardini affinché questo spazio vitale per quel quartiere possa essere effettivamente reso fruibile alla cittadinanza. Quindi l'espressione di parere della Commissione è stata favorevole all'unanimità e questo per quanto riguarda la descrizione e l'illustrazione della proposta ovviamente il voto sarà favorevole. Leggerò adesso l'ordine del giorno e poi valuteremo come votarlo. Grazie. Grazie. Grazie.